Tre mostre per approfondire e capire quello che è stato l'ospedale psichiatrico San Benedetto. È un grande lavoro interforze, quello messo in piedi da provincia di Pesaro Urbino, Associazione Quatermass X, Liceo Mengaroni, Ente Olivieri e Archive di Stato. Fulcro portante del percorso culturale sarà la mostra che si terrà dal 4 al 14 giugno nella sala Adelebei della provincia, incentrata proprio sulle carte ritrovate dell'ex manicomio, carte che a lungo sono state custodite da Emilia Balduini. La conservazione è avvenuta negli anni perché comunque queste carte sono state custodite all'interno dell'ufficio tecnico, nel mio ufficio della provincia e quindi dai miei colleghi che nel passato hanno lavorato su queste tavole o comunque le hanno tenute. Poi chiaramente nel passare del tempo, come tutte le cose che si conservano, progetti eccetera del passato, io ho conservato oltre ai progetti dell'ufficio anche queste cartelle che ho chiamato le cartelle d'altri tempi, negli anni e nel mio archivio. Poi nel 2019 io ho deciso di andare in pensione per cui restituendo un po' tutto il lavoro fatto, ho pensato anche di dover in qualche modo collocare queste cartelle contenenti disegni elaborati, interessanti dal punto di vista storico e grafico e in quel momento ho avuto l'idea di chiamare Roberto Vecchiarelli e di consultarmi con lui e fargli vedere il materiale e insieme abbiamo deciso che il valore effettivamente storico delle carte era notevole. Sempre dal 4 al 14 giugno nella Sala Mari della provincia si terrà anche l'esposizione più partecipazione e innovazione urbana sui progetti del San Benedetto a cura degli studenti del Liceo Artistico Mengaroni e dal 7 al 26 giugno la terza mostra che troverà spazio nei locali dell'archivio di Stato il San Benedetto, studi e materiali delle cartelle cliniche dal 1870 al 1872. I cittadini vedranno in questa mostra le carte progettuali del San Benedetto per quanto riguarda soprattutto la parte di primo ampliamento del 1834 realizzata a Pompeo Mancini per cui abbiamo un architetto rilevante per Pesaro perché è legato a tante altre strutture di quel periodo come la pescheria, gli orti giuli eccetera. Sono dei disegni tra l'altro molto belli che permettono però di inserire l'edificio all'interno di un contesto più ampio cioè di relazione con gli orti giuli, di attenta cura del verde, di monumentalizzazione della parte dedicata alla presenza appunto nel giardino di Bernardo e Torquato Tasso per cui si vanno a leggere diciamo più elementi della storia pesarese legata a un periodo importante come quello del Ducato ma legato anche a quel periodo della legazione pontificia dove comunque ci fu una sistemazione della città piuttosto interessante ha anche un'attenzione grazie anche a personaggi attorno come Gordiano Perticari relativa alla sensibilità sulle problematiche come ad esempio quella della follia e quindi l'idea di costruire un edificio che potesse essere dedicato alla cura della malattia mentale. Grazie.